Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. La pubblicità è l'anima del commercio, lo si sa. Di solito la si fa alle cose, ai prodotti che si vogliono vendere, oppure a certe persone. Di tanto in tanto le piazze le vie appaiono tapezzate di manifesti elettorali sui quali splendono sorridenti i volti dei personaggi più disparati. Sarà interessato anche Dio alla pubblicità? Ne avrà bisogno anche lui? Bisogno no, altrimenti che Dio sarebbe, a meno che non siamo noi a trarne vantaggio. E mi spiego. Quando si tratta di Dio, la pubblicità prende un altro nome, gloria. I cieli narrano la gloria di Dio, si legge nella Bibbia. È come dire, il cielo, il fermamento, l'universo, fa pubblicità, buona pubblicità a colui che l'ha creato. Nelle preghiere, nei canti della fede, si ripete spesso, gloria a Dio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lo si dice con le parole, con la musica, ma anche con le opere. Anzi, per rendere gloria a Dio, l'umanità ha sempre cercato di dare il meglio di sé. Cattedrali imponenti, opere d'arte di ogni genere, certe grandi espressioni della letteratura, della poesia, della musica, a cos'altro servono se non per dare gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sì, se n'è fatta pubblicità a Dio, ma è fuori dubbio che quella che gradisce di più è d'altro genere. E a questa forse non sempre si è prestato attenzione. I primi maestri del cristianesimo erano soliti ripetere la gloria di Dio è la persona vivente. Niente fa buona pubblicità a Dio come la persona che vive in pienezza la sua dignità. Cosa vorrà dire, in sostanza? Quel Dio in cui crediamo si è preso il disturbo di insegnarcelo. Da vicino, con pazienza, con progressività, è venuto a camminare con noi. E non solo questo ha fatto. Dal momento che non basta sapere le cose, ma occorre essere capaci di farle, ci ha donato anche tale capacità, lo Spirito Santo. Chi siamo allora noi, in definitiva? Immagini di Dio, tutti e ognuno al suo modo. Ciascuno di noi è chiamato ad essere se stesso, secondo la sua indole, perché Dio è uno. Nessuno tuttavia si realizza da solo, ma nell'apertura agli altri, nella solidarietà, perché Dio è famiglia, è Trinità. Sì, sarà pur vero che si possono creare splendide opere d'arte a gloria di Dio, ma la migliore pubblicità per Lui sarà la nostra vita, vissuta con dignità. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.